www.feyyaz.tv Siamo un po' delusi da questa situazione perché invece di aiutare cercano in tutti i modi di far chiudere le aziende. Minacce e offese su Facebook ai dipendenti di Pesaro Parcheggi, la società sporge querella contro dieci persone e a rischio l'incolumità del personale. Vandali in azione al Lido di Fano imbrattata con due scritte lattenso struttura. Festa di San Francesco ad Assisi. Insieme a Conte ci saranno Di Maio, Bonetti e Sottosegretario Martella. A presiedere la celebrazione in Basilica Superiore sarà l'Arcivescovo Metropolita di Pesaro Monsignor Piero Coccia. Mini rotatori e limite di velocità ridotto ai 30 km orari. Il Comune di Fano annuncia gli interventi per la zona della trave. In centro storico partirà il piano di modifica delle soste. Sottopasso di Centinarola l'assessore Tonnelli risponde ai residenti aperto e fruibile ma solo da pedoni, ciclisti e scuteristi. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale in apertura alla protesta di alcuni imprenditori che si sono visti recapitare dalla società Andreani Tributi per conto del Comune e delle cartelle dell'Atari con cifre da capogiro. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Letizia Marchionni. Cifre iperboliche, quelle che numerosi imprenditori locali si sono trovati negli ultimi giorni sulle bollette di pagamento dell'Atari recapitate dalla società Andreani Tributi, la quale dopo alcuni sopralluoghi fatti assieme all'Agenzia delle Imposte dal Catasto per accertare la grandezza dei capannoni industriali utilizzati, ha proceduto con l'inviare le cartelle con importo di recupero dell'imposta che per alcune aziende arrivano a toccare la cifra di 240.000 euro di arretrati dal 2015 ad oggi. Una cifra esorbitante che dopo un periodo così difficile come quello post-lockdown che ha visto molte industrie diminuire il proprio fatturato, mette in difficoltà gli imprenditori, soprattutto quelli più piccoli, che rischiano di non riuscire a pagare tale imposta. L'importo non è irrisorio perché la somma è 16.000 euro in 5 anni. Io dico solo una cosa che se sapevo di dover pagare un tot all'anno l'avrei pagato comunque e non magari dopo 5 anni un recupero che secondo me non ha senso perché noi i rifiuti li smaltiamo tutti e quindi come rifiuto effettivo noi produciamo meno di un appartamento. Io gli ho aperto le porte dell'azienda con molta naturalezza pensando che comunque era una rivelazione che facevano e pensando di essere comunque in regola. Loro ragionano in modo giusto nel senso che dicono la superficie è tasabile questa, te utilizzi questa superficie e quindi fino adesso hai pagato per un terzo e adesso devi pagare quello che manca. A parte io non ritengo giusto le sanzioni perché un conto dice vabbè ti recuperiamo quello che devi pagare però le sanzioni potrebbero non diminuirci di un terzo pagando entro 60 giorni ma proprio toglierle. Sicuramente loro hanno proposto la rateizzazione ma rateizzazione di un importo anche ridotto che poi nel mio caso è 13.000 euro ma è comunque pesante per un'azienda artigiana che comunque non è che fattura milioni di euro. Siamo un po' delusi da questa situazione perché invece di aiutare cercano in tutti i modi di far chiudere le aziende. Tante sono state le segnalazioni fatte al sindaco Massimo Seri e dal comune da parte degli imprenditori. Questa la risposta dell'assessore alle finanze Sara Cucchiarini. Questa è un'attività che sta conducendo il concessionario per il comune di Fano su precisi obblighi di legge sul quale il margine di discrezionalità è pressoché limitato. Loro si devono muovere secondo parametri di legge. Quello che come comune di Fano stiamo facendo insieme al sindaco e continueremo a fare è verificare che il concessionario lavori nel modo più corretto, cosa della quale non dubitiamo. Naturalmente abbiamo un incontro fissato lunedì mattina con Confindustria per mesterci nella condizione di confrontarci con gli uffici, con il concessionario e appunto con le categorie, in questo caso Confindustria, per capire i casi specifici. Non servono sterili polemiche e contrapposizioni, scrivono le associazioni di categoria in un comunicato e continuano, chiediamo al sindaco e alla giunta di incaricare un funzionario comunale competente che interloquisca con le associazioni in merito ai vari verbali di accertamento emessi per conto del comune di Fano e rivesta quindi un ruolo di garanzia per le imprese rappresentate. Dopo le minacce ricevute dagli ausiliari del traffico sui social network, Pesaro Parcheggi ha deciso di sporgere querela contro gli autori di poste e commenti offensivi. Dalla maleducazione si è passati alle offese e poi alle minacce, un continuo crescendo di comportamenti inaccettabili ai danni degli ausiliari del traffico che da ora in avanti non saranno più tollerati. Con questa motivazione Pesaro Parcheggi ha annunciato di aver depositato tramite legali una querela nei confronti di dieci soggetti, autori di post e commenti pubblicati su Facebook considerati diffamatori e minacciosi nei confronti dei propri dipendenti. Dopo il comune di Pesaro che già in primavera aveva dichiarato che non sarebbero più stati tollerati i toni oltraggiosi che sempre più spesso appaiono sui social network, anche la società di gestione della sosta ha detto basta. C'è stato un vero e proprio escalation, come dicevo, nei confronti degli ausiliari del traffico che sono pubblici ufficiali e che svolgono il loro lavoro con competenza, un lavoro complicato, difficile dove ci sono delle sanzioni da combinare. Purtroppo quello è il loro lavoro e bisogna che la gente si renda conto che lo fanno proprio perché gli compete secondo le leggi, secondo i regolamenti e applicano quelli semplicemente nella tutela della cosa pubblica. Le minacce attraverso i social purtroppo sono continuate ad aumentare e questo ci ha visto insomma muoversi in quel senso proprio nella tutela dei nostri lavoratori, dei nostri dipendenti che si meritano di essere lasciati tranquilli e soprattutto di essere messi in grado di svolgere il loro lavoro in completa sicurezza e in completa tranquillità. I fatti risalgono all'11 agosto scorso quando un utente aveva pubblicato sul profilo Facebook un post offensivo a seguito di una sanzione ricevuta per il mancato pagamento della sosta. Il post era stato poi condiviso dallo stesso autore e da altre persone su alcune pagine e gruppi locali innescando una serie di insulti e diffamazioni contro gli ausiliari del traffico ma non solo perché era sfociato in un vero e proprio invito alla caccia all'uomo. Considerata la gravità, ha precisato Luca Pieri, presidente e amministratore unico di Pesaro Parcheggi avevamo provveduto ad informare subito le forze di pulizia segnalando il temuto pericolo per l'incolumità dei dipendenti. Questa cosa non era tollerabile e per questo ci siamo mossi e così continueremo a fare anche nel futuro proprio perché non è giusto e proprio perché attraverso i social il rischio reale è quello che non ci si renda conto che si innescono vere e proprie minacce sociali che possono sfociare anche in atti di violenza e questo noi come Pesaro Parcheggi e noi credo come città di Pesaro non possiamo e non vogliamo che succeda e non possiamo permetterci. È salito da 2 a 6 nelle ultime 24 ore il numero di ricoverati per Covid-19 in terapia intensiva nelle Marche. Tre pazienti si trovano all'ospedale di San Benedetto del Tronto, due a Dancone e una a Marche Nord. Inoltre dopo i 23 positivi al Covid rilevati ieri nell'ultima giornata ne sono stati registrati altre 28 nel percorso Nuove Diagnosi. Sei in provincia di Ascoli Piceno, sei in quella di Pesaro Urbino, sei nel Lanconitano, cinque in provincia di Fermo, quattro in quella di Macerate e uno fuori regione. Questi casi comprendono 15 contatti in ambito domestico, altri contatti stretti di casi positivi e rientri dall'Albania e Perù. Ed ora passiamo ai lavori pubblici nel comune di Fano perché questa mattina l'assessore Fabiola Tonelli ha risposto ai residenti del quartiere Centinarola sul sottopasso di Via Fanella. Sentiamo. Dopo le segnalazioni arrivate alla nostra redazione, nella giornata di ieri abbiamo sentito le opinioni dei residenti riguardo al sottopasso di Via Fanella, rimasto chiuso alla viabilità per due anni dopo la sua costruzione, nonostante fosse pronto per essere utilizzato. Oggi l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli ha replicato ai residenti facendo luce sulla questione. Allora, dunque, a Centinarola, in Via Fanella, sta succedendo questo. Sono appena finiti, diciamo, i lavori di sistemazione del sottopasso. Abbiamo scelto di fare questa sperimentazione che durerà circa sei mesi, intorno a marzo del prossimo anno. Una scelta che incentiva l'utilizzo appunto degli spostamenti ciclabili o comunque a piedi perché vorremmo lasciare Via Fanella, quel tratto di Via Fanella, un passaggio pedonale. Quindi questi New Jersey che vedete, quelle cose bianche e rosse, diciamo, dopo il ponte, le lasceremo e quindi oggi, tutt'oggi, è aperto quel sottopasso e possono passare appunto pedoni ciclisti e motorini in questo momento. Mentre invece l'ingresso del quartiere carrabile lo manterremo su Via Brigata Messina che è una via più grande, più di scorrimento, diciamo, carrabile. Quindi l'ingresso e l'uscita del quartiere carrabilmente parlando avverrà su Via Brigata Messina mentre invece l'ingresso e l'uscita principale dei pedoni ciclisti vorremmo che fosse Via Fanella. In questo momento appunto è già fruibile, la segnaletica orizzontale è stata fatta nel tratto, diciamo, dei lavori. Noi sistemeremo la segnaletica verticale che avverrà adesso nei prossimi giorni e cercheremo anche di garantire questo collegamento con la ciclabile che si trova in Via Fanella, lato Fano, sul corsia dell'autobus. Come sapete lì ci possono passare sia gli autobus che le biciclette e i motorini. Quindi dovremo fare questo collegamento in modo che il quartiere si può collegare al centro molto più facilmente. Vorrei aggiungere questo. Nel quartiere presto inizierà il progetto quartiere a misura di bambino, quindi andremo sia nelle scuole, nella scuola, ma anche faremo degli incontri pubblici, diciamo, con i residenti di Centinarola. E l'assessore fa anche sapere che a breve il sottopasso verrà illuminato. Torniamo a parlare della strada in località Cannelle, dove oltre a grosse buche si è formata anche una pericolosa voragine, perché dopo il servizio che abbiamo mandato in onda nei giorni scorsi all'interno del nostro telegiornale Occhi alla Notizia, la Lega Fano ha presentato in comune un'interpellanza. Sì, noi ringraziamo Giuseppe Costa e i residenti della famiglia Iudi. Purtroppo queste cose non devono accadere, quindi come Lega, insieme a tutto il gruppo consigliare, abbiamo presentato un'interpellanza in Consiglio Comunale, visto che siamo molto vicini a tutti i quartieri e anche alle zone periferiche della nostra città. Non è possibile che i cittadini continuino a lamentarsi che l'amministrazione comunale non risponde alle mail o alle segnalazioni. Almeno degnarsi di una risposta a tutti i residenti che chiedono comunque di risolvere una problematica importante. In questo caso qui c'è veramente molto pericolosa, una strada che da vent'anni che aspetta un'asfaltatura o comunque un segnale da parte dell'amministrazione comunale che sono cittadini di Fano come tutti gli altri. Giuseppe, si tratta di una situazione che va avanti da diverso tempo, giusto? Sì, questa situazione è più di vent'anni che va avanti, però due anni fa mi hanno segnalato questa situazione da famiglia Iudi. Io mi sono recato sul posto, poi l'anno scorso ci siamo andati anche con Fano TV, abbiamo visto che è veramente una situazione paradossale. Oltre all'asfaltatura veramente mangiano polvere d'estate e fango d'inverno, ma una cosa palese, non ci stanno neanche i bidoni dell'indifferenziata, cioè dire un'isola ecologica che manca in tutta quella zona. Ma non sono solo le 19 famiglie che abitano in quella via, ma nel circondario ci sono più di 50 famiglie che non hanno veramente dove buttare l'immunizia. Si devono mettere l'immunizia in macchina e andarla a buttare a Carrara. Quindi chiedono un'isola ecologica in loco e se è possibile l'asfaltatura di questa strada, che veramente è diventato un disastro. E mentre Luca Serfilippi ha dichiarato nei giorni scorsi di voler mantenere i due incarichi istituzionali in Comune e in Regione, Marta Ruggeri dei 5 Stelle questa mattina ha rassegnato le dimissioni da consigliera comunale. Non lascio questa assesa a cuore leggero, le regole interne del Movimento non mi permettono di ricoprire entrambi i ruoli, ha spiegato la Ruggeri, che ha inviato una lettera aperta al Sindaco, alla Giunta e ai consiglieri. Auguro a tutti voi, a proseguito, di riuscire a esercitare il vostro ruolo in modo più libero e indipendente dagli indirizzi di partito e dalle pressioni a cui tutti noi siamo sottoposti ogni giorno. Bisogna cercare di avere coraggio e di valorizzare anche il lavoro altrui, pure se proviene dai banchi dell'opposizione. Cercherò di essere all'altezza del mio nuovo ruolo, ha concluso la Ruggeri, ribadendo la sua massima collaborazione. Ed ora continuiamo con le vostre segnalazioni, perché nei mesi scorsi avevamo raccolto le lamentele dei residenti della Trave a Fano che chiedevano interventi per ridurre la velocità degli automobilisti. Ebbene il Comune ha deciso di trasformare Via Trave e Via Foronnace in zona a 30 km orari, ma ha deciso anche di restringere la carreggiata in alcuni tratti anche grazie a delle mini rotatori. Il servizio di Filippo Pucci. Riprendono i lavori nel Comune di Fano dopo il fermo obbligato dal Covid-19 che ha bloccato la maggior parte dei cantieri sparsi per la città. Dopo che all'interno degli uffici tecnici sono state assunte cinque nuove figure professionali, si parte con i prossimi interventi. Primo tra tutti, zona Trave. Dopo le diverse segnalazioni dei residenti arrivate al Comune, l'Ufficio Mobilità ha deciso di intervenire per cercare di moderare la velocità degli automobilisti che non rispettano i limiti. Il progetto trasformerà Via Trave e Via della Fornace in zona a 30 km orari. Oltre alla fissione dei cartelli, il piano prevede un intervento sulla carreggiata, con il ristringimento in alcuni tratti, l'installazione di piastre rialzate, rallentatori, incroci sporgenti e piccole rotatorie. Prima di partire però con i lavori, l'assessorato e i tecnici incontreranno il 6 ottobre e 8 ottobre i residenti per parlare prima delle modifiche su Via Trave, zona palestra e Via della Giustizia e poi nella seconda serata sempre di Via Trave ma anche di Via della Fornace e Via Montenerone. Entrambi gli incontri si svolgeranno alle 20.30 nella sala del centroquartiere Poderino in Via Re di Puglia, più esattamente nel piano inferiore della scuola Nuti. Dai giorni successivi poi si partirà con una prima sperimentazione di ristringimento della carreggiata di una parte di Via Trave. Per quanto riguarda invece il centro storico, a breve partirà il piano di modifica delle soste che andrà a tutelare i residenti dove potranno comunque usufruire dei parcheggi senza ulteriori costi. ...che si riferiscono alla tensostruttura dell'Idoafano che è stata imbrattata con alcune scritte di colore nero realizzate con un grosso penarello oppure con una bomboletta spray. I vandali probabilmente sono saliti sul muretto in cemento per poi arrampicarsi fino in cima grazie ai grossi cavi presenti intorno alla struttura. E questo è il risultato finale, un altro bene pubblico purtroppo rovinato da chi ha avuto poco rispetto delle cose comuni. Cambiamo argomento, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà dunque ad Assisi il prossimo 4 di ottobre dagli ore 10 in occasione della festa di San Francesco Patronno d'Italia. Saranno presenti, annuncia il Sacro Convento, anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro per le pari opportunità è la famiglia Elena Bonetti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea Martella. Ad offrire l'olio che alimenta le lampa, la lampa da chiarde sulla tomba di San Francesco, saranno le Marche a nome dell'Italia intera. A presiedere la celebrazione in Basilica Superiore ci sarà l'arcivescovo metropolita di Pesaro, Monsignor Piero Coccia. Per l'occasione ci sarà anche il sorvolo delle frecce tricolori nei cieli di Assisi e dopo la messa e l'accensione della lampada votiva al santo, il presidente del Consiglio parlerà alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Ed ora ci spostiamo a Cogli al Metauro perché il Comune ha reso omaggio al fondatore della Schnelle, scomparso lo scorso anno, intitolandogli un tratto di via Borghetto, esattamente la strada nella quale sorge lo stabilimento dell'azienda. È stata dedicata ad Alessandro Rupoli la via adiacente alla nota azienda Schnelle in località San Liberio nel comune di Cogli al Metauro. Rupoli, scomparso il 10 luglio del 2019 all'età di 96 anni, è stato un noto imprenditore fanese che fondò nel 1962 l'omonima azienda, conosciuta poi in tutto il mondo per la produzione di macchine automatiche per la lavorazione del ferro per cemento armato. La cerimonia, che si è svolta la scorsa settimana alla presenza dei titolari, familiari, di tutti i dipendenti e gli operai, ha visto la scopertura della targa della via accompagnata da un lungo applauso. Vivo il ricordo del figlio che racconta commosso i bei ricordi del padre. La personalità e il carattere del nostro fondatore, appunto di Sandro, riusciva a coniugare sia l'aspetto professionale e anche un aspetto umano che è rimasto sia nel nostro ambiente, in azienda, sia anche nella città dove tante persone lo conoscono e lo ricordano per le sue tante iniziative. Una persona di altri tempi che speriamo di essere degni di ricordare. E devo dire che il comune di Colle al Metauro ha accolto la nostra richiesta con un tempo molto breve. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale e il sindaco per averci dato la possibilità di organizzare nella giornata odierna questa manifestazione che per noi è molto molto significativa. Tra l'altro capita anche in concomitanza con un convegno, il primo che riusciamo a organizzare dopo il coronavirus qui in azienda. Abbiamo tanti clienti italiani e quindi ci sembra che sia la migliore situazione, la migliore giornata per ricordare il fondatore di Scine. Presente alla giornata anche il primo cittadino Stefano Aguzzi che oltre ad aver partecipato al taglio del nastro del tratto stradale ha voluto ricordare la figura di Alessandro. Abbiamo ritenuto molto opportuno portare avanti questa iniziativa proprio nel ricordo di questa persona, nell'enfatizzare diciamo così questo imprenditore ma soprattutto questo uomo perché al di là delle grandi capacità dimostrate per tutti i 96 anni della sua lunga vita perché fino all'ultimo giorno è stato qui in azienda tranne proprio gli ultimissimi giorni di malattia ha voluto portare avanti appunto come imprenditore questa azienda l'ha fatta crescere, ha dato tanto lavoro ha reso diciamo ricco questo territorio economicamente dal punto di vista industriale, dal punto di vista proprio dei servizi ha donato spesso anche diciamo alla cosa pubblica dell'attività ma era la sanità ma la stessa palestra qui di Montemaggiore ha avuto una donazione per gli arredi interni da parte proprio della Schnelle quindi un uomo molto avveduto sotto questo punto di vista ma soprattutto un uomo molto tra virgolette umile sempre pronto al dialogo, sempre pronto ad allungare la mano e a salutare la persona e a saltare invece è stata inaugurata la sala dei mosaici nell'ex chiesa del Gonfalone il taglio del nastro era atteso dalla comunità da quasi cent'anni dire che siamo emozionati e dire poco oggi vediamo coronato uno dei sogni più affascinanti e attesi dalla nostra amministrazione è soddisfatto l'assessore alla cultura Andrea Giuliani per aver portato a termine il progetto di restauro e valorizzazione dei frammenti musivi ritrovati negli anni 30 località Gambarelli nell'ex comune di Saltara e conservati dal 2016 nella sacrestia dell'ex chiesa del Gonfalone dopo quasi cento anni di attesa lo scorso fine settimana è stata inaugurata la MOSS sala dei mosaici di Saltara questo il nome scelto per l'esposizione museale questi mosaici sono stati rinvenuti qui a poche centinaia di metri da Saltara tra Saltara e Calcinelli nel 1927 da un agricoltore che sta avarando il suo campo come nuova amministrazione invece siamo fortemente interessati a questa iniziativa voglio per questo intanto ringraziare e citare il mio vice sindaco Andrea Giuliani che ha preso fortemente a cuore questa iniziativa e l'ha portata avanti fino in fondo e abbiamo pensato quindi non solo di restaurare i tre mosaici ma anche proprio di fare una ricerca storica sulla loro origine l'inaugurazione della MOSS non è da considerare solo un obiettivo raggiunto ha precisato il sindaco Aguzzi ma un primo passo verso il più ampio recupero del ricco patrimonio archeologico di Cogli al Metauro in questo senso è l'accordo quadro stretto con la soprintendenza delle Marche l'università degli studi di Urbino e l'università politecnica delle Marche che ci darà grandi opportunità perché solo chi conosce il proprio passato può prepararsi al meglio per progettare il futuro noi facciamo capire alle persone il contesto dell'archeologia non li facciamo vedere solo come oggetto isolato dal suo contesto ma li facciamo vedere effettivamente nella loro funzione li facciamo vedere nelle stanze, negli ambienti, nelle domus dove erano collocati permettendo anche alle persone di fare un salto nel tempo di 2000 anni e di poter camminare e muoversi all'interno di questi meravigliosi ambienti dove questi mosaici erano collocati quindi un percorso molto complesso che però questo piccolo museo riassume perfettamente in tutte le sue fasi In attesa dell'edizione 2021 del Paese dei Balocchi l'associazione preseduta da Michele Brocchini presenta fuori paese tre appuntamenti per celebrare l'anniversario dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari pedagogista e scrittore, simbolo della letteratura per l'infanzia il primo appuntamento è in programma il 7 ottobre nella chiesa sconsacrata di Santa Maria del Gonfalone dove arriverà Pietro Dorfles, giornalista già conduttore di Rei 3 insieme a Geppi Cucciari, conduttrice del programma per un pugno di libri il 23 ottobre sarà invece la volta del duo composto da Davide Grilli ed Enzo Vecchiarelli per una iniziativa dedicata alle filastrocche Fuori paese si concluderà il 12 novembre con Lella Mazzoli dirigente del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università di Urbino Carlo Bo per un incontro dedicato alle fake news tutti i dettagli li troverete nel nostro sito occhioallanotizia.it e vi ricordo che lunedì sera torna la nuova stagione di Primo Cittadino l'ospite della prima puntata sarà il sindaco di Pesaro Matteo Ricci in questo cartello vedete anche tutti i numeri di riferimento per intervenire in diretta e inviarci messaggi tra poco invece le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato all'intitolazione all'inaugurazione della via ad Alessandro Rupoli fondatore della Schnell io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento di serata ricordandovi invece l'appuntamento con l'informazione che torna domani mattina alle 7 con la nostra Rassegna Stampa arrivederci